Bene ragazzi, benvenuti in questo video, sono Aleferranti25 e oggi siamo in un nuovo video Siamo qui su Resident Evil Revelation, raga siamo in una nuova serie, no? Sì perché, praticamente, oddio, il controllo Praticamente perché Destiny è successa una cosa brutta al blocco, cioè al blocco Al gioco di Destiny e niente, vabbè, incominciamo questa nuova serie, quindi Destiny non si continuerà più Comunque, cominciamo questa nuova serie, non è il seguito di Resident Evil 6 che comunque dovremo finire Ma è una specie di, non so come dire, cioè comunque non c'entra niente con Resident Evil Cioè la saga di Resident Evil normale, no? Ok, c'è una bella pistola, raga questo qua era stato prima prodotto per 3DS Poi è uscito il Remastered per Xbox e solo poco prima di registrare l'ho potuto avere, no? Quindi ho detto perché non registrai questa serie? Basta il controller, basta Ok, siamo arrivati a una nave qua Speriamo quando si venga il controller, non è scarico, solo che tipo ha preso una botta l'altra volta E quindi, Quinzinobia La Quinzinobia Che cos'è la Quinzinobia? Ok, certo Fighissimo, l'ambientazione comunque Sono stata assente per un po', infatti sentite ancora, cioè non ho avuto molta voce in questi giorni Quindi non ho potuto registrare, comunque questi giorni non è che avevo molto tempo di registrare E anche se ce l'avevo comunque c'è questa voce Anzi, prima ancora peggio, quindi bene così 933, spero 390 non andava sicuro Raga, continuiamo anche la serie di FIFA 158 Vision 1 Comunque raga Ho postato un, cioè devo postare un video domani Di un pack opening velocissimo Non vi lamentate se è troppo corto Però l'avevo trovata al momento E non lo stavo registrando Comunque ci sarà una bella sorpresa per Per FIFA Ok, ma non si può correre Ottio Io ci stai bene Certo che sto bene Sto in bene Incredibile Comunque Ma, guarda Se spari forse Spara pure storto Tra l'altro Non può correre come il solito Resident Evil C'è un tasto per correre E' abbandonata da un bel pezzo Vabbè, comunque Sembra molto bella l'ambientazione Comunque Ma sì, la vita Ma sento che c'è qualcosa Dopo questo Dopo Oddio Dopo Resident Evil 6 Incominciamo Slender Dare Dove è salito? No, lui è un alien Ovvio, sì Raga Volevo Dovevo fare un video di alien Solo che non avevo avuto ancora tempo Alien Isolation Con l'alien Comunque è molto bello Per essere stato preso Dal 3DS Oddio Cioè mi ha fatto più paura prima Sinceramente Ok, pensavo Non stesse parlando Ero un vinto idocchio No, ma va No, guarda Jill Non me ne ero accorto Lei si chiama Jill Ve la presento Ma comunque Jill Ah no, non c'era Resident Evil 6 Non ricordo Vabbè andiamo verso di qua Cioè tipo raga Preso le cuffie per Natale Solo che tipo A Natale le aprirò Quindi non adesso Comunque Poi ve le farò vedere in un vlog Che cosa? Topi ciccioni Topi obesi Ovvio È andato in corto Non va niente in questa nave È una nave di merda Tanto ora torno indietro Mi prendo il jumpscare E finisco il video Ecco qui stiamo tornando indietro Non dobbiamo Ok, così si gira Andiamo di qua E non c'è niente Ah Armadietti Interessante Dell'erba verde Raga non farò intendete Come ogni volta Non c'è niente Wow Tra l'altro c'è la live Di uno youtuber che seguo Solo che non me Non lo sapevo E non lo seguo da molto Cioè non guardo youtube Da moltissimo tempo Tra l'altro siamo arrivati Togli giù Siamo arrivati a 730 iscritti Stiamo arrivati a 30.000 730.000 Ovvio Ovvio Arriverai presto a quel traguardo Ancora lui Stiamo facendo un giro in tondo Cosa dobbiamo fare Possiamo passare di qua E invece no Siamo già rimasti bloccati Wow No Cioè Lui Ma qui possiamo passare Ma ci siamo già passati Ah Mi sono perso Quindi ci sono già passato L'ho finito il mio amico Sì La porta in faccia L'ho sbattuto Bello questo episodio Cioè No raga Una cosa stupenda Buttati Che morbido Possiamo andare solo di qua Vabbè Potessi andare là L'unico L'unico Che possiamo fare È andare qua Perché ci puoi fare molto È andato in corto Ci fado io in corto Ora Che non ci sta Ah Mica l'avevo visto All'altro Siamo già Un buon punto Un punto Un punto di che Cosa Parker Come si chiama Parker Certo buonitile Lui Sì raga C'è un maligola Sono già passati Tipo sette minuti Di video Wow Semplicemente È bello Come là è la nuova Webcam Nuova generazione Non vedete Che bello Quando sto comandando Ah no C'è una pistola Wow Cos'è quella roba Uno spara Sparamissi Sparamissi Non si chiama Sicuro Vai pigliano Figliano Secondo me c'è dentro qualcosa Cioè Non Andrei a prendere La dentro Bravo Parker No lei Proprio si schifa Che merda Che schifo è Ehi Non credo sia Chris Ah stanno cercando Chris Chris è un personaggio Che c'è Con la Resident Evil 6 Magari lo vedremo Oddio Un pedofilo No chi è quel tipo Oddio Dobbiamo stare pronti A sparare Mi sa Mori Mori Che arma Scrausa è questa Madonna Guarda Non lo scalfisce Oddio Mori No Sparando colpi a caso Sto Sparando Bam Sei morto No Merda Pensavo fosse morto Oddio Non muore mai Cos'è Vadoo 8000 colpi Siamo 2 contro 1 E Stavamo pure per Essere arrati A reti Cosa spiega Bello biondo Non è biondo Non è biondo Bene Grazie controlli Grazie Ora sei Chris Non mi troverai mai Jill Resident Evil Revelation Abbiamo appena finito il primo capitolo Episodio 1 Nelle profondità Abbiamo finalmente finito il prologo Allora raga Sì Non è stato molto come video Cioè non è che è stato Non è stato molto Comunque Era L'episodio di introduzione Questo qua lo vedremo In seguito Cosa sto facendo Se vi è piaciuto il video Mette mi piace Mette mi piace Oddio Mi sono stato bruttare Pagina Facebook Che troverai sempre sotto In descrizione Per oggi è tutto Bella